Ciao a tutti e a tutte bentornati bentornati sul mio canale e anche in un nuovo vlog Niente di che che adesso stavo guardando un video dei me contro te che praticamente facciamano vedere la loro casa Il tour della casa dei me contro te, quella più rinnovata Non dico quella di Cicolciceto ma l'altra Se l'avete visto il video mettete mi piace E se conoscete anche i me contro te Io si li conosco da 6 anni credo Forse anche di meno Forse o 5 o 6 più o meno E niente di che che poi stavo pensando di mandare una foto alla mia amica E niente di che Oggi non andiamo al mare, ci rilassiamo un po' Mamma e nonna sono andate a comprare un po' qualcosa da mangiare Io sono rimasta a casa perché comunque c'è un caldo orbo Per oggi è tutto Lasciate like e iscrivetevi al canale se anche voi Conoscete i me contro te Per oggi è tutto Ad Asia Bianchi Out